le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di domenica 16 gennaio ariete dovete stare attenti a non farvi imprigionare da persone noiose che possono rovinarvi la domenica anche in amore la routine quotidiana vi annoierà toro in casa riuscirete a portare a termine con successo i vostri compiti in breve tempo e poi avrete solo voglia di stare in compagnia e di divertirvi gemelli in famiglia ci sarà bisogno di un impegno maggiore per via di certi imprevisti che vi ritroverete ad affrontare poi pensate solo al relax cancro siete in gran fermento in questo periodo vi ritroverete con una lunga lista di cose da fare e spesso non troverete il tempo di farle tutte leone è una giornata piacevole quella che vi attende ansia e preoccupazioni scivoleranno via e riuscirete a cogliere solo il meglio dei rapporti con chi vi circonda vergine in famiglie compiti di cui dovrete occuparvi non saranno molto impegnativi perché rappresentano la normale amministrazione per voi la serata si pronuncia eccitante bilancia la giornata vi vede nervosi e incapace di rilassarvi in casa vi annoierete fuori casa sarete distratti evitate i pettegolezzi e le discussioni in amore scorpione la giornata si pronuncia molto interessante la luna in cancro è luminosissima e può farvi vedere molto chiaramente la reale dimensione di un sentimento sagittario vi ritroverete a correre per riuscire a star dietro a tutti gli impegni che avete preso del resto in questo periodo quando ricevete un invito non riuscite a dire di no capricorno non fidatevi troppo delle persone che avete intorno alcune sono invidiose e pronte a mettervi in difficoltà in amore dovete solo rompere la routine acquario non sarete di buon umore la giornata vi sembrerà più lunga del solito sul lavoro sarete svogliati in amore cercherete una scusa per starvene da soli pesci potrete contare su un'ottima giornata in cui saranno poche le cose che non riuscirete a realizzare la serata si pronuncia molto stimolante per l'amore e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus